Sì, grazie, grazie dallo studio, grazie Carmine. Come vedi sono solo perché i due direttori del Teramo, il direttore sportivo Sandro Federico e il direttore generale Emilio Capaldi, come si può ben capire, sono impegnatissimi in queste ore sul fronte calciomercato. Uno dei due, ci aveva assicurato la sua presenza, però è stato richiamato proprio da un impegno degli ultimissimi minuti. Detto questo abbiamo titolato proprio sul calciomercato ore decisive per il trasferimento in bianco-rosso dell'attaccante abruzzese Doc, originario di Pineto Rocco Costantino. Però questo trasferimento non si è ancora concretizzato, l'operazione potrebbe completarsi in giornata oppure no. Il giocatore tra l'altro arriverebbe a Teramo via Pescara che lo ha preso, lo prenderebbe a titolo definitivo per poi girarlo proprio la società bianco-rossa. Vedremo se sarà così. Al momento, come vi dicevo, la trattativa è in stand-by, però dovrebbe concretizzarsi entro la giornata. Per quel che riguarda, e poi sarebbe il secondo tassello che arriverebbe in casa Teramana, perché un acquisto ufficiale già c'è stato, quello di Luigi Giorgi, una mezzala di 31 anni, ha svincolato l'ultima squadra di questo giocatore, lo Spezia, in Serie B, tra l'altro la sua carriera si è sviluppata proprio soprattutto in Serie B e anche in tanta Serie A, quindi è un tassello molto importante per il centrocampo di Agenore e Maurizzi. Le altre trattative, il direttore sportivo Federico e comunque la ricerca, anche qualora dovesse arrivare Rocco Costantino, di un altro attaccante, probabilmente una punta centrale perché appunto Rocco Costantino è più una seconda punta. Il Teramo poi sembra aver mollato la presa su Andrea Bianchimano, attaccante di proprietà del Perugia, su cui il club aveva messo gli occhi da tempo, anche su indicazione dello stesso tecnico Maurizzi, che lo ha già allenato quando guidava la regina. Diminuiscono invece le possibilità di un arrivo del 23enne Claudio Sparacello, della formazione pugliese della Virtus Francavilla, in cambio della mezzala bianco-rossa Federico Zenuni. In uscita, oltre a Zenuni, restano da definire alcune posizioni di alcuni giocatori bianco-rossi, ovvero Zenuni, Di Renzo, Ragneri Vitale e Ferretti. Infine è stato ufficializzato sul fronte calcio-mercato il trasferimento di Piccioni a Rimini a titolo definitivo. Informo poi anche che sabato prossimo, il 12 di gennaio, il Teramo farà, disputerà un amichevole, non si sa se al Bonolis o su un altro campo, contro il Pescara Primavera. Mentre ricordo ancora che il campionato del Teramo tornerà in pista sabato 19 gennaio con la trasferta a San Benedetto, gara fissata per le 20.30, ma anche qui potrebbe anche essere anticipata, questo si saprà nei prossimi giorni. Per il momento da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è tutto. Per ulteriori aggiornamenti sul calcio-mercato del Teramo vi rimando all'edizione serale del Tg8 Sport.